Profumeria di nicchia, artistica, fragranze d'autore. Tanti nomi diversi per indicare un universo profumato che difficilmente fa capolino sugli scaffali delle grandi catene di distribuzione cosmetica. Produttori, distributori, creatori, appassionati si danno appuntamento in questi giorni a Firenze per pitti fragranze. Giunta all'undicesima edizione, la Kermesse vede riuniti alla stazione della Leopolda tutti i grandi e piccoli marchi della profumeria artistica internazionale. Un settore, quello della nicchia, che corre veloce e cresce a dispetto della crisi. Credo che oggi il numero di persone che vuole acquistare scoprendo da solo le cose, guidato dalla passione e dalla ricerca, dalla volontà di ricerca, sia in crescita. E questo è un bellissimo momento per noi. Un mondo dove l'arte fa capolino non solo nella scelta dei flaconi, ma soprattutto nel contenuto. Perché sta nella selezione delle materie e la differenza tra un profumo commerciale e uno di nicchia. Se nel primo si investe sul packaging e sul volto del testimonial, nella nicchia si punta alla qualità delle materie e alla libertà artistica del naso. Una figura ammantata da un'aura di mistero, un'artista che si muove con eleganza nell'etere universo delle fragranze, miscelando con sapienza odori e assolute. E che nel creare un prodotto artistico può dare pieno sfogo alla sua ispirazione. Ho provato a riprodurre il profumo di una foresta nella mia regione, in Francia. Un'area vulcanica che si chiama Auvergne. E dove c'è una foresta che si chiama Le Bois Noir. Quando ci cammini in autunno dopo la pioggia senti odore di umido, di muschio, di corteccia, di pietre. Questi odori sono importanti per me. Volevo davvero prenderli e metterli in una bottiglia per creare questa particolare atmosfera. I profumi più gettonati della prossima stagione? Sicuramente le fragranze speziate e orientali. Spazio anche ai sapori, alle spezie, ai colori dell'India, che cominciano a fare capolino tra le nuove fragranze, che non mancheranno di ammaliare il pubblico di appassionati.